Il consigliere Domenico Marrazzo, consigliere delegato all'edilizia scolastica, oggi un importante incontro con i presidi che dovranno fare che cosa entro aprile? Oggi i presidi gli verrà comunicato che la città metropolitana farà il più grande intervento dell'edilizia scolastica del posto terremoto, quindi il sindaco comunicherà questo ai presidi. Dopodiché loro dovranno entro Pasqua comunicare qual è l'intervento che è importante e strutturale da fare all'interno della propria scuola, il quale verrà finanziato e verrà immediatamente anche attuato.